Prendo la scatola della mia, tiro fuori una macchina, una macchina rossa che vuole diventare grande, però deve fare una gara contro un'altra macchina uguale a lei, però deve fare una gara nella pista dei ostacoli, corti dei colpi del nervo. Inizia la gara, la macchina nera in valontaggio, fa tutte le curve, però dopo si scontra contro un colpo del nervo, dopo la macchina grande non sbaglia nessun ostacolo e dopo conclude la gara, così il suo sogno diventò, si è avverato e così è diventata una macchina grande. Grazie! Grazie!